Adesso vogliamo ascoltare la parola del Signore, fratello Varecchione, Dio ti benedica e ti usi per la sua gloria. Amen. Nuovamente pace del Signore, fratelle e sorelle, Apocalisse capitolo 3, versi 7 e 8. Questa è una lettera che è scritta alla più bella delle chiese, delle sette chiese. E questa chiesa è la chiesa sempre pronta, in attesa del giorno del ritorno del Signore. Quindi è scritta alle nostre chiese. Dico bene, fratelli? Ma, è scritta anche a voi, oppure solamente ad alcuni. C'è una chiesa pronta in questo centro congressuale, una chiesa pronta per il ritorno del Signore. La chiesa dell'amor fraterno, Filadelfia. Sentite cosa dice il Signore. All'angelo, o pastore della chiesa di Filadelfia, scrivi Queste cose dice il Santo, il Veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Fino a qui, fratelli, il messaggio di oggi ci parla delle porte aperte, delle grandi opportunità di Dio per noi. Porte, mi verrebbe da dire, spalancate, in certe circostanze, sulle opportunità che Dio costruisce intorno a coloro che sono interessati a far parte della storia di Dio, nella quale molti entrano di striscio, di passaggio, entrano ed escono allo stesso tempo. Altri, invece, il desiderio di chi vi parla è che la maggior parte, auspicabilmente tutti, diventiamo parte per rimanere della storia del popolo di Dio, della storia di Dio. Questa storia è fatta di porte che possono essere anche chiuse, e le porte chiuse, per chi conosce i piani di Dio, la volontà di Dio, il modo di operare del Signore, che leggiamo nelle Sacre Scritture, sappiamo che anche le porte chiuse hanno un significato. Abbiamo conosciuto persone che hanno sciupato una vita intera nell'attendere davanti a una porta che il Signore aveva chiusa, nella speranza umana che quella porta si aprisse e che la porta non si è mai aperta. Ho conosciuto persone che hanno atteso per vent'anni di poter sposare una donna e poi, al fine dei conti, quella donna ne ha sposato un'altro e ha sciupato la vita intera in attesa di quello che il Signore aveva chiuso vent'anni prima. Il Signore chiude delle porte e a volte, nel trovarci davanti a quello che noi vorremmo che il Signore apra e che in realtà non accade, facciamo ricorso ai negozi di ferramenta, là dove fanno i duplicati delle chiavi, e speriamo di poter trovare, di poter comprare un'apri-porta universale, se non addirittura un grimaldello per forzare le porte. E questo è un modo di farsi del male, naturalmente, perché per noi la porta chiusa deve assumere un preciso significato. Sebbene occorra discernimento per capire quando è il Signore che chiude, occorre discernimento allo stesso modo per capire anche quando siamo noi che dobbiamo accettare quelle porte chiuse. Ci sono anche alcuni che usano delle chiavi false, appaiono come quelle vere, somigliano a quelle vere, e qualcuno che utilizza questi mezzi crede di aprire per altri, in realtà non sta aprendo né per gli altri e né per se stesso. Ovvero negano la possibilità che i credenti si fermino davanti ai problemi, perché non diventino più grandi ancora, per concedere quello che Dio non concede. E la mia speranza è che noi non diventiamo più buoni di Dio, perché Dio non è troppo buono, come qualcuno vorrebbe far intendere. Viviamo in un Paese largamente, ormai lontano dalla fede, con una parte di religiosità rimanente, nonostante le apparenze. E vi assicuro di dire una cosa che senz'altro voi potrete confermare, ma nel partecipare in questi pochi anni ultimi, a dir poco, a una ventina di funerali, in ambienti dove quelle persone non erano mai stati, in quelle determinate chiese, io ho visto spedire tutti in Paradiso, e questo è il tempo nel quale viviamo. Dio è buono, e alla fine Dio salverà tutti. E questo è l'uso improprio delle chiavi, è l'uso delle chiavi false, è l'uso delle chiavi illusorie, che mette la gente davanti all'idea che tutto va bene, che ogni cosa funzioni, e che in questo mondo si possa commettere ogni infamia. Quando la parola di Dio è esplicita nel dire esattamente l'opposto, perché comunque Dio è buono, e alla fine salverà tutti. E non vorrei ripetere cose già dette stamane, ma questo modo di pensare sta entrando in alcune realtà che si definiscono evangeliche. Signore, aiuta il tuo popolo ad essere chiesa cristiana, dove il capo della chiesa è Cristo, dove non è l'etichetta che conti, ma è il nome del nostro Signore che portiamo su di noi, e quello è colui che comanda. L'Evangelio è fatto anche di porte chiuse, ma è anche fatto poi di porte che il Signore a suo tempo aprirà. Signore, ci doni sapienza. Se Cristo chiude, nessuno apre. Fratelli, sorelle, a volte una porta chiusa fa bene. Quante volte, a livello pastorale, incontriamo dei credenti. Ultimamente ho sentito che c'è una persona della comunità che c'è la morte con me, testuali parole del marito. Per quale ragione? Perché io non ho concesso esattamente, contro il marito, quello che la moglie vorrebbe. Signore, usati dei tuoi servi, usati anche dei bambini. Certe volte, per poter dire, la porta è chiusa. E dove è Gesù che chiude? Che nessun altro pensi di aprire, perché farebbe un grande buco nell'acqua. Avete mai visto i buchi nell'acqua? Come funziona? Metti giù il dito, fai il buco, togli il dito, il buco non c'è più. Una vita sprecata. Una porta aperta, anche una porta aperta per noi, ha un significato. Perché ha un significato? Perché è una porta speciale. Abbiamo letto in questo passo che è Gesù che pone davanti a noi questa porta. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta. Qual è la realtà a cui fa riferimento questa parola, questa delle chiavi di Davide? Se voi avete interesse per queste cose, le trovate scritte nel libro di Isaia, al capitolo 22, verso 22. C'è proprio l'indicazione di questo tesoro. È un tesoro che aveva un tesoriere. Era colui che deteneva le chiavi. Era il tesoro di Davide. Era il tesoro di Israele. Era il tesoro del re. Ma c'era uno, questo Eliakim, che aveva le chiavi. E al tempo specifico il re, il re Ezechia, che aveva ereditato, naturalmente per via di passaggio di padre in figlio, tutto questo. E qui leggiamo in questo verso che nel tesoro di cui c'erano delle chiavi, che Dio aveva dato, e che alla fine profeticamente giungeranno nelle mani del Cristo, quando si farà uomo. Questo tesoro era fatto di argento, di oro, di aromi, di oli finissimi. C'era dentro l'arsenale tutto quello che si trovava nei magazzini. Figura del tesoro degli uomini, figura del tesoro di Cristo. Questo tesoro è un tesoro che è al di là di una porta. La porta viene aperta, spalancata, sulla camera del tesoro. Ma qui si tratta di passare dal vedere con gli occhi i lingotti che brillano, uno sull'altro. L'argento, di sentire i profumi, di vederli stando al di qua della porta. E l'invito invece che viene dal Signore è a prendere coraggio e attraversare quella porta. Perché al di là di quella porta ci sono le ricchezze. E se vogliamo entrare in contatto per fare nostro ciò che Dio ha provveduto per noi in anticipo, dobbiamo avvarcare quella porta. E Gesù ci pone davanti alcune porte aperte. La prima di cui vi voglio parlare è la porta aperta della grazia di Dio. Questa è una porta che è aperta per tutto il mondo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E tutte le donne, naturalmente, siano salvate. Vi era un ragazzo estremamente miope. Era davanti a una porta spalancata, al di là della quale vi era il tesoro della sua famiglia. Vedeva passare dall'altro lato capretti, a volontà. Il padre era ricco. Il padre è colui che a un certo punto diede la parte dell'eredità che spettava all'altro figlio. Noto tra i più giovani, tra i giovani più noti dei Vangeli. Il figlio prodigo. Vi ricordate la storia del figlio prodigo? Ma sto parlando dell'altro fratello. Quel fratello vedeva il tesoro dall'altra parte della porta. E sappiamo bene che quando tornò a casa il suo fratello che aveva sciupato, sperperato i beni di famiglia. E il padre era lì pronto ad attendere quel ragazzo. E lo abbracciò, lo baciò, lo ribaciò, gli mise l'anello al dito. Lo fece rivestire i calzari e via di seguito. E a un certo punto iniziò la festa. E quello che noi facciamo cantando non deve essere stato nulla in confronto alla gioia di quel padre e di quella famiglia per il ritorno a casa di un figlio che era morto. Ed era stato riportato alla vita. Era perduto ed era stato ritrovato. E quel ragazzo che vedeva il tesoro passare dall'altra parte si arrabbiò. Aveva la porta spalancata sulla grazia di Dio e non la vide, non seppe approfittarne al punto che il padre uscì fuori per invitarlo ad entrare. E lui non volle entrare. Quale sofferenza! Avere davanti un tesoro, la porta spalancata e non avere il coraggio di entrare. Però qui c'è l'altro che ha capito il significato della porta aperta sulla grazia. Perché la grazia? Non meritava nulla. Aveva fatto tutto un discorso dentro di sé. Aveva imparato a memoria la storia da raccontare. Padre, io non sono che come uno dei tuoi servi. Riprendimi, ma non come figlio. E non ha fatto in tempo neanche a dire una parola di quello che aveva messo in cuore di dire. La grazia che giunge laddove non ci sono i meriti. E qualcuno dice, non ha pagato nulla. Certo, non ha pagato nulla quel ragazzo. Ha pagato tutto un vitello ingrassato. Figura dell'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che è stato immolato per i nostri peccati, che non aveva alcuna colpa e che se le è caricati su di sé. Anche le colpe di quel ragazzo che vedeva passare i tesori di casa al di là della porta. Ragazzi, fratelli, sorelle, abbiate il coraggio di passare da quella porta. Quella porta, naturalmente, si chiama Gesù per approfittare della libertà, della porta aperta, della grazia di Dio nel nostro tempo. Gesù ci pone anche davanti un'altra porta aperta, quella della testimonianza. L'abbiamo letto nel verso 8. Pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Cosa vuol dire tutto questo? Noi non siamo un popolo forte di nostro, non abbiamo neanche la forza dell'organizzazione, sebbene siamo il movimento evangelico più numeroso, neanche dalla sola Italia, ma probabilmente dell'Europa stessa, almeno come Assemblea di Dio in Italia. Non abbiamo forza in noi stessi. L'Apostolo Paolo diceva che non ci sono troppi sapienti, troppi dotti, secondo la sapienza umana, in mezzo di noi. Ma questa parola dice tu, pur avendo poca forza, ci invita a rimanere attaccati a colui che ha la forza, attaccati alla parola che ci dona la forza. Hai serbato la mia parola. Siamo invitati a non vergognarci di questa parola, dalla quale troveremo senz'altro la risposta alla nostra di debolezza. come è avvenuto nella storia biblica, in alcuni casi, che due ve ne citerò, c'era una fanciulla chiamata così, che vuol dire che era una ragazzina, schiava, serva della moglie del campo dell'esercito di Siria, popolo nemico di Israele. E comunque quella ragazza aveva tutti gli elementi in sé per poter odiare il suo Signore perché era in cattività. quando seppe che il marito della sua padrona era malato di lembra e che probabilmente come è successo a qualcun altro aveva speso di ogni soldo, di ogni denaro, di ogni ricchezza per trovare guarigione senza ottenerla. Ebbe un momento di titubanza probabilmente perché forza non ce n'era, era una schiava ma non ebbe il timore di esporsi e di dire alla sua padrona guarda che in Israele c'è un profeta ed è il profeta dell'idio vivente non degli idoli che voi adorate dell'idio vivente di a tuo marito di recarsi dal profeta Eliseo e lì sarà guarito. Forza zero ma fatemi dire anche paura zero e si è sposta e ha presentato la via della guarigione la via della salvezza io vorrei aggiungere per quanto riguarda l'esperienza che fece questo Naaman perché quella fanciulla ha avuto il coraggio di rimanere attaccata al Dio dei suoi padri e di poter annunciare con quella sola frase e null'altro sappiamo di lei neppure il nome che Dio è potente di guarire alleluia la porta aperta della testimonianza è probabile che sia stata l'unica volta nella sua storia che le è passata davanti quella possibilità se si fosse tacciuta quell'uomo sarebbe morto di lebra probabilmente e lei avrebbe perso l'opportunità di essere riportata come parte della storia di Dio nel libro di Dio nella Bibbia e lo troveremo nell'eternità perché non troveremo la divina commedia nel cielo ma troveremo la parola di Dio eterna e in quel libro si parlerà di lei e io la vorrò conoscere come una ragazzina che ha avuto il coraggio di aprire di usare la porta aperta della testimonianza e aprire la via della salvenza a qualcuno che ne aveva bisogno c'è un'altra ragazza di cui voglio parlare una ragazza fantastica che molti uomini avrebbero voluto averla per moglie quanto a bellezza fisica Esther anche lei una donna che era fuori dal suo popolo che si è trovata pensate un po' seduta a preparare per dodici mesi non so quanto tempo impieghi tu la mattina per truccarti questa ragazza ha impiegato sei mesi per un tipo di trucco e altri sei mesi per assorbire gli aromi per poter trascorrere una notte con il re dopodiché il re l'ha amata più di tutte le altre donne e se le è presa per moglie voi credo conosciate ma comunque vi dirò in sintesi due parole sulla storia della regina Esther e di suo zio Mardocchio se non ci fosse stato se non ci fosse stato quell'uomo a indirizzare quella ragazza per la malignità per la gelosia per l'invidia per il seguito al dio del male quel popolo sarebbe il popolo di Israele sarebbe stato sterminato quella ragazza fu invitata dallo zio a prendere il coraggio di parlare lei reagì con forza dicendo io non posso recarmi dal re la legge lo impedisce se io dovessi andare senza essere richiesto al cospetto del re per quanto fosse la prima moglie il re avrebbe potuto decretare la sua la sua morte e questo zio Mardocchio che non so se sia teologicamente corretto mi perdoneranno i pastori ma credo che abbia assolto al compito dello spirito santo per guidare per indirizzare per consigliare in questo caso per esortare con forza disse ad Esther non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re infatti se oggi tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte ma tu e la casa di tuo padre per i rete e chissà che non sei diventata regina appunto per un tempo come questo e questa ragazza aveva ancora le gambe che tremavano avrebbe potuto insistere e dire no caro zio non se ne fa nulla e il popolo avrebbe passato sarebbe stato passato a fil di spada che cosa successe bandì un digiuno di tre giorni chiamò tutte le sue amiche sentite sto parlando a tutti voi ma in particolare voglio parlare per un attimo alle sorelle alle ragazze imparate a circondarvi di amiche che potete chiamare nel momento del bisogno amiche cristiane è chiaro? amiche cristiane che quando avrete le gambe che tremano possiate chiamare per ricevere un buon consiglio per essere sostenute nelle vostre delicate scelte della vita e voi ne avrete bisogno ancora di più di noi uomini per il ruolo importante che ha la donna nella società e nella chiesa questa donna Esther bandì con le sue amiche un digiuno di tre giorni e alla fine di quei tre giorni trovò la forza per poter andare davanti al re per poter chiedere la liberazione per il suo popolo e la ottenne la porta aperta della testimonianza chissà che tu non sei diventata regina per un tempo come questo messa lì a posto secondo l'orologio di Dio nel luogo giusto nel momento giusto solamente lei poteva accedere a quel re chissà che anche tu non sia collocata nella tua scuola nella tua famiglia dove magari altri non sono credenti nell'università nei luoghi di lavoro o tu donna di famiglia casalinga e questo poi lo allarghiamo naturalmente a tutti i fratelli qui presenti che non siamo collocati nel nostro tempo nel nostro luogo per essere usati in quel momento e solamente noi possiamo avere l'accesso a quel tipo di persona in quel momento e il Signore vuole usarsi proprio di te una grandissima opportunità che il Signore vuole darci il giorno delle porte aperte sulle grandi opportunità del Signore si tratta però di entrare entrare da quella porta Gesù aperto nessuno la può chiudere non metterti in mente che ci possono essere dei fatti troppo grandi che non sia possibile parlare a quella tal persona perché ti deriderebbe ogni cosa che può essere per noi impossibile non è impossibile per il Signore questo lo sappiamo ed è uno di quei ritornelli che diamo a memoria ma qui si tratta di passare dalle parole alla fede e se ti manca le forze chiedi al Signore bandisci pure i digiuni che occorrano per trovare nel Signore la forza ma non fermarti davanti a nessuna barriera davanti a nessun ostacolo perché se il Signore apre le porte quelle porte rimarranno spalancate e da quella porta passerà la testimonianza che produrrà la salvezza gloria a Dio ti manca sapienza chiedile ti manca coraggio credi infatti dice Paolo Dio ci ha dato uno spirito sentite ci ha dato uno spirito non solo un carattere ci ha dato uno spirito che interviene sul nostro carattere non di timidezza ma di forza siete in grado di continuare di forza di amore e di autocontrollo Dio ci ha dato uno spirito fratelli facciamo ricorso sorelle a questo spirito di Dio perché Lui che ci ha dato forza usi quella forza in noi Lui che vuole che la Chiesa viva nell'amore sia capace di produrre quella tale quantità di amore nelle nostre Chiese che coloro che entreranno da noi saranno non ammaliati dall'ambiente non saranno accolti da un buon servizio d'ordine d'accoglienza all'entrata delle nostre Chiese e gloria a Dio anche per questi fatti che accadono naturalmente in mezzo a noi ma siano accolti dall'amore di Dio che possa uscire da ogni poro dalla nostra pelle del nostro cuore e della nostra vita e scoprire che l'amore è quello vero perché viene da Dio che ci ha dato uno spirito di forza di amore e di autocontrollo qualche tempo fa ho dato un consiglio ai credenti della mia comunità non mio in quanto aggettivo possessivo naturalmente e ho detto ci sono alcuni di voi che non hanno mai avuto l'opportunità di portare a salvezza un amico un'amica un'anima in sostanza e ho detto vi invito a fare una preghiera precisa a Dio parlavo in particolare a quelli un po' avanti negli anni perché non ci sono solo gli adolescenti e i giovani e dissi a questi fratelli chiedete a Dio che non vi faccia morire che ritardi il giorno della vostra morte fisica fino a quando almeno avrete portato a salvezza un'anima non so se così la chiesa di Milano diventerà la più longeva d'Italia ma comunque se la diventerà diventerà anche la più numerosa d'Italia probabilmente perché se tutti in una comunità portassimo almeno un'anima al Signore non dico nel giro di un anno facciamo qui programmazioni pianificazioni ma la speranza che segue l'ardire della fede ci porta a dire che se almeno ne portasse uno nella vita ne sarebbe valsa la pena il passaggio su questa terra perché la ritroveremo nel regno dei cieli per sempre e noi con loro fratelli ai giovani si tratta di vincere altri giovani e gli adolescenti a Cristo i ragazzi più giovani guardano quelli più grandi vi dico una parola in più prendete coraggio nelle vostre chiese per portare se i vostri pastori ve lo permetteranno naturalmente per portare una parola di testimonianza ai più maturi una parola di meditazione sulla parola di Dio perché io sono convinto che una parola detta da un credente soprattutto da un giovane valga mille parole di un pastore perché molti credono che noi siamo preposti a questo quindi sia un fatto dovuto soprattutto se siamo a tempo pieno come chi vi parla ma lui è pagato per farlo io ho lavorato 32 anni a livello secolare prima di lasciare il lavoro per seguire a tempo pieno la comunità noi non facciamo i professionisti del pulpito ma sono sicuro lo ripeto che una tua parola da credente valga mille parole delle mie prendi coraggio nel Signore prendi quella porta spalancata della testimonianza in modo che altri ascoltandoti possono venire al Cristo agli anziani l'Apostolo Paolo ci parla di poter essere lo dice alle donne maestre nel bene maestre posso dare onoris causa un titolo di maestro a tutti i credenti qui il maestro è maiuscola Gesù ma voi potete essere maestri e maestre nel bene vuol dire che qualcuno che insegna all'altro soprattutto con il comportamento più che tante parole senza dire tu devi fare così il maestro non fa così il maestro ha imparato a sua volta e può insegnare ad altri perché qualcuno gli ha indicato la via da seguire agli sposi io quando incontro una coppia di marito e moglie anche se hanno compiuto 62 anni di matrimonio come è capitato a una coppia dei nostri li chiamo sempre sposini e loro di reazione chiaramente si autoderidono come sposini siamo sposati da così tanti anni sposi sposini qui si tratta di combattere contro la vita secolare da cui sono partito poco fa si tratta di dimostrare a questo mondo che è possibile rimanere sposati fino alla fine dei nostri giorni che non avete firmato un atto falsamente fino a che morte non vi separi che avete creduto che quello che il piano di Dio è migliore di qualsiasi altro e io ringrazio il Signore perché quando anni fa si trattava di scegliere c'erano due miliardi di donne sulla faccia della terra e il Signore mi ha fatto incontrare Margherita lo dico perché non è qui mia moglie la più bella donna del mondo l'ha messa sulla mia strada e non so come abbia fatto a sopportarmi fino ad oggi ma fra qualche giorno compiremo 36 anni di matrimonio più 2 di fidanzamento fanno 38 e cosa volete che siano davanti all'eternità saremo insieme per sempre e se ti sei annoiato perché hai avuto un matrimonio di 20 anni e credi di essere nella fede tu ti troverai tua moglie per l'eternità nei cieli ti conviene fare pace sulla terra qui in modo da vivere serenamente perché sono sicuro che Dio non ci metterà sulle nuvolette con l'arpa da suonare oggi ce l'ho con l'arpa non avremo la nuvoletta ognuno di noi ma se mai ci fossero le nuvolette sono sicuro che sulla nuvoletta tua metteranno la persona che tu ritieni antipatica e te la troverai per tutta l'eternità accanto fate pace fate pace siano benedetti i raduni campistici c'è qualcuno degli sposi qui in guerra sapete io da cosa mi rendo conto quando ci sono problemi nelle famiglie quando al culto vedo da noi ci si siede come si vuole non ci sono posti separati per maschi e femmine quando vedo il marito lì e la moglie lì in fondo o viceversa e qualche volta durante il culto ho detto fratelli durante la preghiera quando tutti avranno gli occhi chiusi per favore marito vieni vicino a tua moglie moglie vai vicino a tuo marito perché i culti sono importanti anche per trovare una riconciliazione tra di noi l'ultimo punto Gesù ci pone davanti la porta aperta del buon sapore della vita cristiana il buon sapore della vita cristiana i religiosi non saltano di gioia per le proprie scelte religiose il religioso crede che sia tutto quanto un dovere e dov'è il piacere il cristiano è un'altra cosa il cristiano ha capito che c'è qualcosa di buono nelle cose di Dio questi religiosi non hanno gustato la festa vi ho parlato di chiavi false i credenti hanno ricevuto le chiavi da Gesù vi ricordate quel tesoro quella camera del tesoro Isaia la reza Chia c'era tra le varie cose oltre all'oro l'argento e via di seguito c'erano anche queste realtà c'erano questi aromi non so quanti di voi siete mai entrati in qualche mercato quelli con le bancherelle da noi se ne usano molti di più in meridione d'Italia dove trovate queste centinaia di spezie differenti già i colori diversi attraggono poi gli aromi sono una cosa particolarissima se avete modo di andare nella città vecchia a Gerusalemme nella parte dei mercati arabi trovate questa realtà moltiplicata per mille questi aromi sono cose di valore non è il pepe che compriamo un tanto al chilo sale che qui si sciupa dalle nostre parti sono spezie preziosissime a quel tempo venivano da paesi lontani migliaia di chilometri dall'estremo oriente e non c'erano gli aeroplani cargo che le portavano capite quando Marco Polo è tornato dal suo viaggio ha portato proprio queste cose tra le altre dalle Indie cose di valore queste realtà che trovi se tu non dovessi usarle come cristiano questi aromi è un po' come per noi italiani mangiare la pasta in bianco tutti i sacrosanti giorni in bianco neanche col pomodoro neanche col parmigiano senza alcun condimento cristiani sciapiti saremmo ma voglia il Signore invece che tu possa entrare dalla porta di quella casa del tesoro e poter fare approvvigionamento senza pagare delle ricchezze di Dio anche quanto alla Roma e poi vai oltre e trovi in qualche scaffale successivo nella sala del tesoro questi oli finissimi e qui vedi che dopo il sapore che viene dato dalla presenza di Cristo nella nostra vita c'è anche questo olio lo spirito di Dio questo olio profumato e chi è che può gustare l'olio profumato dello spirito di Dio se non coloro che lo hanno realizzato nella propria vita Signore sia benedetto colui che non solo ha conosciuto la salvenza ma è consapevole della bellezza di essere ripieni di questo spirito e questo spirito fa la differenza e la porta aperta che ci mette davanti al Signore su questa nuova realtà dei profumi che noi possiamo essere sono quelli di poter essere trasformati da gente che prima avevano un cattivo odore e oggi noi possiamo non solo avere cambiato profumo ed emanare il profumo di Cristo ma possiamo anche attrarre altri con il medesimo profumo che non è nostro ma è del Signore per la salvezza delle anime fratelli e sorelle queste porte aperte sono aperte per tutti cosa ne vogliamo fare? la mia speranza è che nessuno di voi vada a casa senza avere varcato almeno la porta della grazia se qualcuno ancora non ha fatto un'esperienza personale di salvezza nessuno ti spingerà con la forza al di là di questa porta però una cosa è certa che noi pregheremo per te fra un attimo se ancora non hai avuto il coraggio di entrare dalla porta della testimonianza anche questo faremo questa sera pregheremo che il Signore ti dia soprattutto fatemi dire con parole mie forse un po' giovanili la voglia la voglia di testimoniare la voglia se ti manca la voglia se ti manca la passione non lo farai e io voglio pregare che il Signore metta in te la voglia di essere un testimone di Cristo di essere una luce accesa da dove ti troverai e se la tua condizione lo richiede vuole essere un profumo diverso anche per questo fra un attimo pregheremo alziamoci in piedi